buongiorno benvenuti a questa video analisi del 6 maggio 2016 guardo il calendario lì se vedete calzo lo sguardo verso lì in alto alla mia destra guardo il calendario benvenuti quindi venerdì 6 maggio video analisi che come sempre potete ricevere gratuitamente via email come fare molto semplice se passate col mouse se la state guardando su pc oppure toccate lo schermo del vostro smartphone tablet vedrete comparire magicamente la lettera i di imola sopra la mia testa cliccate su quella lettera i uscirà un'altra finestra e cliccate su quella finestra vi riporta sul mio sito sul mio sito trovate anche le info per aderire al corso di gruppo che sto organizzando per la fine per la seconda parte del mese di maggio in cui tra altre cose parlo vado a esporre anche come funziona questa strategia con le candele ai chi nasci multiday ma non solo forex anche titoli indici azionari strategie anche intraday due sessioni che saranno registrate e inviate a chi vi partecipe quindi resterà a vostra disposizione praticamente un video corso ebbene ieri parlavo che la inversione a u è quasi completa adesso lo è però attenzione per esempio questo sarà anche un tema del corso e lo dico a chi segue gli eventi in cui seminari conferenze varie attenzione perché è vero graficamente adesso abbiamo un'impostazione tale che il dollaro dovrebbe apprezzarsi contro il resto del mondo almeno le valute oggetto di questa analisi quelle più importanti però ci sono i dati odierni c'è tantissima roba alle 14 e 30 con i dati sull'occupazione americana occupazione americana che in questo momento è l'unico elemento fattore che non preoccupa la federal reserve perché i dati sono positivi quindi se saranno confermati questo sarà confermato questo trend positivo anche se proprio in questa settimana abbiamo avuto l'adp negativo le richieste di sussidi negativo perché in crescita oltre quelle che non le attese degli operatori l'ism componente lavoro lì è stato sm servizi perché manifatturiero invece c'è un problema abbastanza importante ism servizi componente lavoro positivo quindi oggi vedremo tasso disoccupazione avvaliazione non fan payroll e salari orari medi l'ho già spiegato nella video analisi intermarket tra altre cose vi invito a registrarvi alla video analisi di questa qui via mail ricevete in automatico anche l'altra intermarket ho già parlato questa mattina del fatto che il mercato anticipa quindi qualsiasi notizia oggi che possa dare delle indicazioni su un rialzo dei tassi perché oramai viene dato per scontato in questo 2016 ci sarà un rialzo dei tassi usa e la correlazione è rialzo dei tassi si apprezza la moneta di riferimento in questo caso usd dollaro americano quindi qualsiasi notizia qualsiasi riferimento che possa oggi venire fuori da questi dati in un senso nell'altro rialzo anticipato dei tassi o posticipare un rinvio del rialzo dei tassi vedremo quello che potrà avere gli effetti sul dollaro usa è un po come io dico sempre il trading un po come il calcio ovvero bisogna un po adeguarsi alle varie situazioni quindi oggi magari volendo assimilare paragonare appunto al calcio oggi per esempio ci si può accontentare se si è in posizione di chiudere di un pareggio o di una vittoria striminzita oppure insomma gestire la partita in questo caso il trading non voglio parlare ovviamente trading come gioco che è assolutamente sbagliato il trading è una cosa molto seria e va affrontata nel modo giusto idoneo quindi giusto per dire faccio il paragone col calcio perché magari può rendere meglio bisogna adeguarsi alle partite ovviamente la squadra leader non gioca sempre nello stesso modo si ci si adatta agli avversari ci si adatta alle situazioni insomma tutto quello che serve per ottimizzare i risultati la stessa cosa nel trading quindi adeguate la vostra strategia in base a quello che sono gli eventi tra cui oggi pomeriggio quindi trading sulle news era il titolo dell'altra video analisi intermarket abbiamo un'impostazione tale che il dollaro dovrebbe apprezzarsi vedremo se i grafici hanno anticipato già qualcosa in tal senso quindi potremmo avere delle notizie tali che fanno pensare ad un rialzo dei tassi potranno far pensare ad un rialzo dei tassi a giugno quindi rialzo dei tassi sale il dollaro vedremo il mercato darà la risposta intanto graficamente faccio vedere quelle che sono le novità rispetto all'analisi di ieri e c'è stata alla fine la conferma questa qui della candela rossa e chinaci sul grafico eur usd dove l'impostazione era già a ribasso con questa candela dello scorso 13 aprile dopodiché io andai ad alzare l'asticella in questo caso il livello di resistenza 1 15 81 preso come riferimento la chiusura più alta quella dello scorso 24 agosto 2015 questi per esempio saranno tutti temi affrontati durante il corso di gruppo dove tracciare questa resistenza e vedete che effettivamente è stato un bene alzare la prendere come chiusura di riferimento quella di agosto perché c'è stata quindi se avessi lasciato quella precedente avremmo avuto una falsa violazione e nuova inversione al ribasso quindi questa candela rossa torna a dare manforte a quella che si era formata lo scorso 13 aprile se eur usd dovrebbe effettivamente poi venire giù invertire da 1 15 significa che l'euro scende sale il dollaro nel forex ogni buy e sell è sempre una doppia operazione state sempre facendo due operazioni se vi posizionate short euro usd state vendendo euro comprate dollari quindi l'impostazione dollaro contro euro è favorevole alla moneta americana e da ieri qui invece veniamo da un trend che era ribassista con questa candela rossa del 26 aprile sulla resistenza 0 97 vedete scritti qua i livelli di resistenza sulla resistenza 0 97 e 90 candela verde qui non ho dovuto fare neanche l'analisi perché l'avevo già tracciata da qui da questa già vedete cos'è accaduto già in passato con una candela verde su questo supporto non è detto che rivedremo assisteremo allo stesso film non è garanzia candela verde supporto è un forte segnale possibile segnale di versione a rialzo ma non è garanzia di successo al 100 per cento quindi anche qui dollaro che potrebbe guadagnare terreno contro il franco svizzero abbiamo visto contro l'euro contro il franco svizzero e anche contro la moneta giapponese sarà contento kuroda governatore della banca centrale giappone livello di riferimento è 106 aggiungiamo altre unità perché bisogna andare parecchio indietro nel tempo questo è il livello 106 di riferimento quindi dollaro che potenzialmente potrebbe invertire la rotta contro anche lo yen vedo una piccola resistenza in aria 111 e 50 il livello praticamente che ha raggiunto prima del meeting della banca del giappone deludente meeting almeno per gli operatori che si aspettavano qualcosa di più da parte della banca appunto boj come viene detto quindi dollaro forte contro da oggi anche contro yen contro franco svizzero ha confermato l'impostazione contro l'euro c'è già un'impostazione a ribasso nei confronti della sterlina con la candela rossa che c'è stata l'altro giorno 4 maggio la resistenza di riferimento 146 62 è a ribasso è a rialzo perché se audio sd viene giù vuol dire che l'australiano viene giù e sale la moneta americana e vedete oggi proprio sta toccando un nuovo minimo l'accelerazione qui c'è stata anche in seguito al meeting della banca centrale dell'australia che a sorpresa ha tagliato i tassi li ha portati al minimo storico 1 e 75 che comunque come potete comprendere benissimo siamo lontani alti e lontani dai tassi zero che sono in giro per il mondo vicino di casa dell'australiano neozelandese anche qui c'è un'impostazione tale dove meno accentuato il ribasso perché ci sono stati dati macroeconomici america e neozelandesi positivi però l'impostazione al ribasso anche qui quindi dovrebbe esserci un apprezzamento della moneta americana nei confronti di quella neozelandese questi sono anche cross correlati positivamente col petrolio quindi l'analisi intermarkets l'avete seguito lì c'è anche un'impostazione al ribasso sebbene ci siano delle notizie e vi faccio vedere proprio usd cad dove è in corso un incendio che sta bloccando la produzione di petrolio e questo sta favorendo un po la ripresa delle quotazioni del petrolio usd cad invece si tiene già fatto parecchia strada dal supporto con candela verde in area 1 25 e 31 attenzione perché nel pomeriggio 14 30 ci sono dati pesanti anche relativi al cad quindi usd cad sotto due fuochi usd dati americani cad dati canadesi quindi attenzione qui potrebbe esserci tanta tanta volatilità per il resto le altre novità guarda caso sono proprio riguardano out cad ovvero l'australiano il canadese dove si è formata la candela verde su un supporto 0 95 23 però attenzione se dovesse già chiudere così la seduta qui c'è già una violazione perché se metto adesso torno alla raffigurazione rappresentazione con le candele giapponesi vedete siamo già sotto il supporto 0 95 23 quindi è il caso di prendere posizioni oggi qui abbiamo anche il vantaggio che vediamo già c'è una potenziale violazione del supporto alle 14 30 ci sono i dati cad quelli americani è il caso di prendere torniamo al discorso del calcio forse è meglio avere un atteggiamento più difensivo che di attacco aggressivo insomma piccole che richiede l'attività di trading un filtro umano io lo consiglio sempre discrezionale valutare sono piccole considerazioni da fare quindi parlavo anche poco fa al telefono con una persona che mi segue una carissima persona con cui facciamo il discorso l'attività di trading di avere un duplice scopo lucrativo ovviamente di guadagno ma anche di benessere psico fisico perché se siamo bravi a fare trading dalla mattina alla notte probabilmente quei soldi si riguadagneranno altre persone al posto nostro quindi aud cad e attenzione perché eur chf ha bucato violato la resistenza 1 e 10 e adesso si prepara l'attacco di 1 11 52 quindi come vedete non è sempre sinonimo di successo candela rossa resistenza candela verde supporto c'è stata una prima flessione e ora nuovamente accelerato a rialzo perché nei rapporti di forza eur usd chf in questo caso è il chf usd chf che sta dettando la strada al cross eur chf un altro cambio dove presente franco svizzero e gbp chf quindi si chiude la movimento a ribasso dalla resistenza 1 e 42 e adesso candela verde supporto di riferimento 1 38 e 77 per il resto non ci sono altre novità e niente bisogna solo aspettare i dati del pomeriggio e vedere che scossoni se porterà di scossoni perché magari tutto è secondo le stime degli analisti quindi quello che il mercato ha già scontato potrebbe anche essere un fuoco di pallia giusto della volatilità bene per oggi è tutto siamo a venerdì quindi vi auguro buon weekend appuntamento a lunedì arrivederci